Il senso dell'arte è esatto, soprattutto velocità perché dobbiamo tirarlo dalla testa alla coda prima che il vento diventa troppo duro. Allora, signora Michele, quanti anni? Un minimo di dieci anni per imparare la testa alla coda. Non ci sono scuole per cui è la pratica, le tecniche sono fortissime. Esattamente, bisogna avere un'anima di artista all'interno, sennò uno non si improvvisa, non si può improvvisare. Ecco. Ma essere un'anima è un'anima di più di un'anima, è quella la prova. Allora, signori, per tutti i presenti facciamo un trattamento speciale per voi. Andiamo a vedere il negozio e avete il 50% su tutti i prezzi. Grazie. 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 Grazie.